Federico Pizzutelli contro il Castelfidardo sei stato doppiamente sfortunato, due gol annullati e anche un infortunio? All'inizio abbiamo incominciato bene, i primi cinque minuti stavamo un po' soffrendo, però poi alla fine sì, questo è anche la sfortuna del calcio. Mi hanno annullato i due gol, poi non volendo mi sono fatto anche male, però sono contentissimo per la vittoria e ora dobbiamo pensare già a domenica prossima. Come stai? Che infortuni hai riportato? Una botta alla caveglia, spero di riprendermi al più presto e tornare in campo. Per te è un paio di giorni di riposo quindi senza allenarti? Ma sì, questo dobbiamo valutarlo con il dottore e appena sono in condizione spero di tornare in campo subito. È una vastese che nelle ultime due giornate si è ripresa? Ma questo lo sai com'è, nel calcio ci sono sempre cali, però alla fine noi siamo un gruppo giovane, però alla fine sappiamo quello che vogliamo e cercheremo fino alla fine di puntare a fare questi playoff. Domenica l'Aragona arriva il Francavilla in un derby molto sentito. Sì, sì, un derby abbastanza sentito, però noi alla fine, come tutte le gare, le dobbiamo affrontare nella miglior condizione e dobbiamo cercare di puntare i tre punti a casa.